In occasione del 1 maggio 2023, l'Associazione Italiana Persone Down rilancia a 15 anni dall'avvio la campagna Assumiamoli, obiettivo indurre le aziende ad assumere persone con sindrome di Down. Un impegno che ha prodotto risultati importanti, ma i numeri sono ancora molto, troppo bassi. Da Taranto un esempio virtuoso che ci piace raccontare. Questa mattina Carmen, davanti alle nostre telecamere, ha firmato il contratto di lavoro come dipendente del Salina Hotel. Dottore Argento, dunque da oggi sono 36 dipendenti del Salina Hotel, perché da oggi Carmen ha preso servizio presso la vostra struttura. Noi abbiamo conosciuto questa possibilità anche tramite una trasmissione RAI di qualche anno fa, che si chiamava appunto Hotel a 6 Stelle, dove venivano inseriti alcuni ragazzi Down che iniziavano a lavorare nell'ambito del turismo. Noi abbiamo aperto questa struttura da circa due anni e ora abbiamo creduto che ci fossero le condizioni per inserire questa esperienza e abbiamo voluto metterci a disposizione dell'associazione. Che emozioni avete provato in famiglia? Sono stata molto contenta e felice perché so che Carmen può farcela a questa sua esperienza di lavoro e sono molto molto contenta. Ancora Angelo Argento commenta l'approccio di Carmen al suo lavoro. Assolutamente sopra ogni aspettativa. Lei è molto sciolta, si confronta bene con gli altri nostri dipendenti. Credo che sarà sicuramente un valore. Come le ricerche dimostrano che l'inserimento di persone Down nelle strutture lavorative migliorano l'ambiente di lavoro? Io sono contento di lavorare ma guadagno anche il stipendio che avrò. Oltre al lavoro che è importante, sono contento di lavorare in un albergo. Come ti rapporti con i tuoi colleghi, con i clienti dell'albergo? Tra i miei colleghi sono sempre simpatici per me, però non c'è che un collega non può essere amico, è un collega. Mi auguro che l'esempio della famiglia Argento sia emulato da tanti altri imprenditori della nostra città. Vedete, non c'è cosa più bella che vedere che l'inclusione non appartiene soltanto a pochi, ma può essere anche un'inclusione che riguarda tante, tante persone. E nel momento in cui i nostri ragazzi, i nostri figli riescono a trovare questa disponibilità, vuol dire che effettivamente, fatevelo dire, evidentemente qualcosa è stato costruito anche in queste città. E l'occhio lucido ci sta tutto? Non può mancare. Grazie a tutti.